salve ragazzuoli bentornati sul canale siamo come sempre in un nuovo episodio della nostra serie di sopravvivenza ovviamente allora che cosa dobbiamo fare in questo episodio sicuramente andremo a fare il ponte mi serve un ponte per andare dall'altro lato e cercheremo di iniziare a fare le prime colonne portanti per dare un aspetto nanico a tutta sta base perché abbiamo detto che la vogliamo fare con una faccia mezzo cittananica mezzo verdeggiante quindi per forza dobbiamo fare una roba del genere allora io qua avevo lasciato a cuocere della cobblestone dovrebbe esserci ok ce ne sta controlliamo un attimino qua perfetto la nostra farm di ferro funziona il ferro l'ho messo qua ragazzi ce la voglio dire intanto vedo che va un po scattoso quindi facciamo il solito controllo per vedere se windows sta facendo gli aggiornamenti come al solito no stranamente non li sta facendo quindi vabbè non lo so allora una cosa che volevo fare intanto è vero che quassù abbiamo detto perché c'è sto coso in mano a forse era andato a fare un po di esperienza allora è vero che quassù non voglio rendere facile l'accesso per non sfruttarlo troppo però per il momento io una scaletta per salire su ce la metterei perché la prima colonna la voglio fare esattamente lassù sarà una colonna piccola più o meno quindi vediamo come come va intanto mi faccio delle scalette che non ce le ho allora facciamoci un po di scalette ma pure di più qui se ne frega tanto comunque prima o poi le useremo allora c'erò del di stone brick si sono pochini però me ne faccio degli altri al volo un attimino quindi andiamo qua no andiamo dove sta lo stone cacchio qua stone cutter stone brick ok allora iniziamo a salire qua su e vediamo come potremmo fare questa questa colonna allora qua volevo fare qualcosa di questo tipo esattamente così quindi qua rompere un attimino tutto mettere tutti non qua porco lo schifo iniziamo bene guarda quando le puntate iniziano così è sempre una grande soddisfazione una roba del genere per il momento e qua ci mettiamo delle scalette è una cosa estremamente provvisoria ma estremamente però però attenzione perché potrebbe avere il suo fascino questa cosa che ho appena fatto e pensavo fosse una stronzata invece ci potrebbe anche stare mi dà quell'aspetto di scala nanico ormai tutto nanico qua dentro c'è qualsiasi cosa faccio è una roba nanica va bene va bene allora dove facciamo questa pseudo colonna questa pseudo colonna in teoria dovrebbe essere abbastanza piccola perché dovrebbe sorreggere qualcosa lì centrale non mi pare il caso intanto leviamo questo quindi terraformiamo un po la situazione ok ho tolto questo forse dovrei abbassarla un po questa robetta qui vediamo un attimo se riesco ad abbassarla perché vorrei fare una colonna che parte da lì e si collega la sotto però giustamente è molto vicina quindi non è che verrebbe proprio benissimo quindi secondo me se accorcio tutta questa zona qua potrebbe venire meglio allora adesso butto giù un po di roba ragazzi così iniziamo a vedere come viene quindi tutto questo lo buttiamo giù proprio di cattiveria poi un'altra cosa che devo fare è che me lo devo ricordare allora innanzitutto devo ripristinare il libro delle idee perché come avevo detto se è perso e ho anche capito come ma non mi ricordo che cosa avevo raccontato come spiegazione ma era sbagliata qualunque cosa ho detto era sbagliata praticamente una volta però per fare la copertina del video ho usato un programma che si chiama mini mator una roba del genere è praticamente un programma che ti permette di creare personaggi in 3d fare animazioni sempre di minecraft quindi carichi la skin ti modelli il personaggio che alla fine il mio personaggio quello che vedete la mia skin nelle copertine dei video che sta sempre in una posa particolare ecco quella posa la faccio questo programma e fila tutto bene nemmai successo un casino è tutto bello felice e contento un giorno sbirciando su youtube ho visto uno youtuber che diceva che lui usava stesso programma cosa voglio e caricava direttamente la mappa del mondo anche io ho detto no porca cazzozza questa cosa non la sapevo mi sono messo a vedere le impostazioni questo programma avevo sempre usato molto velocemente ed effettivamente c'era un'opzione carica mappa del mondo ora voi direte potevi farci una copia della mappa del mondo prima di caricarla si lo potevo fare ma chi cacchio pensava che avesse problemi comunque carico la mappa del mio mondo quello corrente quindi senza salvataggio e faccio una copertina e che per l'esattezza è la copertina della farm di ferro quindi pure una copertina di merda alla fine faccio sta copertina e va tutto bene torno a giocare non me ne accorgo ma molto probabilmente quando io ho fatto quella copertina evidentemente il mondo caricato in quel programma mi ha sfanculato qualcosa perché io avevo detto no probabilmente il libro si è cancellato quando era andato a modificare il level punto dat con gli ntb insomma tutta quella cosa la poi mi sono rivisto le puntate e no non è così perché dopo aver modificato il file punto dat quello lì per chi non si ricordasse per riabilitare il commercio normale con i villager perché avevo attivato le funzioni sperimentali non funziona più un cazzo ho visto delle puntate successive a quella modifica il mio libro funzionava ancora quindi ho praticamente isolato l'evento e l'evento drammatico è stato proprio il momento in cui ho fatto che la copertina di merda tra parentesi con quel programmino quindi ho deciso chiaramente che non lo userò mai più per fare copertine mi sembra anche giusto o almeno non con la mappa del mondo corrente magari mi faccia una copia è niente quindi quello è stato tutto sto giro infinito di parole per dire che devo ripristinare il libro delle idee quindi di metterci la roba che c'era scritta sopra e fagli quel benedetto altarino perché all'inizio avevamo detto dobbiamo fare un posto dove mette il libro delle idee magari una sorta di altarino un piedistallo qualcosa del genere in modo che poi uno quando inizia la puntata se lo va a legge per il momento l'altarino è quello cioè sta buttato in un angolo tipo bidone dell'indifferenziata ma che sono dettagli e quindi dobbiamo fare questa cosa al di là di questo qua sto continuando a scavare per vedere come viene sta colonnina e poi dovrò fare un ponte che da lì mi collega lì a intanto io ho notato bellissimo quella cosa il fumo che esce da dai campfire del villaggio ogni tanto esce dall'acqua vedere è carino potrei anche pensare di metterci un po di fieno sotto quei campfire per vedere se mi esce perché non sarebbe brutta l'idea di avere un lago con l'acqua calda cioè con l'effetto dell'acqua calda ovviamente dopo lo facciamo questa cosa e mi ricordo perché poi sono sicuro che poi scava qua scavalla e mi scordo tutto però è assolutamente una delle cose da fare ecco se adesso avessi un libro delle idee funzionante me lo potrei scrivere questo coso però me lo posso scrivere il libro ce l'ho non c'è sta scritto più un cazzo però ce l'ho allora scriviamo questa cosa che così non me la scordo andiamo molto correndo allora il libro delle idee lo dobbiamo prendere il libro altrimenti non possiamo scrivere una pippa a io sto pieno di giustamente sto pieno di cobblestone tanto io la cobblestone raga visto che comunque qua la stone brick la useremo tantissimo ho fatto una stonzata vabbè non importa la butto lì dentro allora dicevamo nel libro delle idee andremo andremo a scrivere intanto libro delle idee 2.0 perché il primo è andato a farsi bene di fare altare libro delle idee ok poi mettere fieno sotto camp fire villaggio ok e basta per il momento questo è non mi viene in mente un cacchio ok voi a magari rimettetemi nei commenti i vostri suggerimenti così li riscrivo potremmo fare ok facciamo così azzeriamo il libro delle idee riscrivetemi nei commenti i vostri suggerimenti e li riscrivo così mi evito di andermi a vedere il video perché mi rompo le palle non è per una cosa personale che non lo voglio cioè non lo voglio fare ma non perché mi state sul cazzo voi perché mi rompo le palle io quindi riscrivetemi nei commenti se ci avete voglia mi date dei suggerimenti e li riscrivo come abbiamo sempre fatto e man mano che li facciamo li depenniamo allora intanto io continuerei qua a scavicchiare tutto e poi ci abbiamo anche un'altra questione in sospeso in questo mondo appena creato fondamentalmente è un mondo giovane non abbiamo fatto ancora un cacchio ed è la questione delle miniere io ho fatto mi ricordo che sempre nel mio libro delle idee dio lo abbia in gloria che è andato a farsi benedire c'eravamo scritti tutte le coordinate delle varie altezze dove secondo la wiki o un sito tarocco non mi ricordo dove l'ho visto comunque secondo questo pseudo sito c'erano scritte le varie altezze dove era più probabile trovare determinati minerali me l'ero scritto su questo libro e avevo iniziato a fare una prima miniera che era quella di ferro è quella dei diamanti che sta più giù io volevo fare una miniera per ogni minerale lungo la scaletta che abbiamo usato per per andare alla farm di scheletri per andare nel villaggio eccetera eccetera questa è anche una cosa da fare e ovviamente queste miniere dovranno avere un aspetto ma non ve lo dico manco nanico quindi queste miniere saranno tutte quante belle carine con un ingresso abbastanza importante e ci permetteranno di accedere a tutti i vari settori dove andare a scavare magari non serve un cacchio perché tutto sbaglia però almeno esteticamente fa la sua porca figura allora io qua intanto tra una chiacchiera e l'altra ho abbastanza terraformato terraformerei anche un po qui tanto per vedere l'effetto che fa e poi sto fatto delle miniere anche per farci una bella sessione di mining è vero che adesso ci abbiamo la farm di ferro quindi mentre io sto qua a picconare una marea di iron golem si stanno immolando per noi e quindi ci scagazzano lingotti di ferro però il fascino di mettersi là e scavare alla ricerca di minerali secondo me è una cosa che non è che possiamo togliere da questa serie anzi al di là delle esplorazioni delle super mega caverne che ci stanno anche il semplice scavicchiare nei tunnel uno per due secondo me c'è il suo fascino quindi è una cosa che dovremmo fare per questo mi serve appunto fare tutte ste miniere a varie altezze io intanto sto infilando torce tutte le parti e continuo il mio scavaggio allora dovremmo potremmo esserci anche se secondo me lo spazio è ancora pochino tra questo pavimento che ho appena scassato e quello perché io avevo in mente di fare adesso vi faccio anche vedere il mio prototipo bellissimo di di colonna mi serve però ovviamente una grafting table o uno stone cutter usiamo lo stone cutter perché ce l'abbiamo ecco qua facciamoci un po di questi tanto mi serviranno allora il mio prototipo di colonna adesso salvo e ve la faccio vedere assolutamente dovrebbe essere una colonna 5 per 5 e alta x perché poi dipende quanto la vogliamo fa alta deve in teoria dovrebbe toccare da dalla base dove la facciamo fino al soffitto perché dovrebbe rappresentare una colonna che sorregge tutta la struttura altrimenti la montagna collassa su se stessa e noi moriamo come degli stronzi questa è l'idea fantasy di questa roba allora la mia come cavolo si chiama la mia colonna l'ho pensata in questo modo allora perché 5 per 5 tu non c'entri assolutamente un cacchio in tutta questa faccenda 5 per 5 perché 5 numero dispari e ci consente di avere questo spazio qua per fare porte ingressi ecco io l'avevo pensata più o meno così faccio due tre strati in modo che ci rendiamo conto cioè vi rendete conto di come potrebbe venire ecco qua mettiamo blocchi blocchi qua niente oggi sono molto chiacchiereccio oggi vi tocca raga non mi dite niente questa è una puntata chiacchiereccia ogni tanto ci sono le puntate con i tagli e le puntate chiacchierecce oggi oggi è chiacchiereccia la situazione allora facciamo così ecco ci sono cascato dentro lo sapevo e voilà allora vediamo un attimino questa qui dovrebbe essere la base della colonna delle colonne allora secondo me non è male magari si può fare di meglio per carità però come aspetto potrebbe essere carino ecco volendo io potrei decidere di mettere dei muretti anche qua per dargli quell'aspetto di tridimensionalità perché giustamente facendo la piatta e mi rendo conto che potrebbe venire un po un tipo un mattone però già così potrebbe essere secondo me così la facciamo è bellissima mi piace quindi facciamo queste colonne qua ora io ho messo questa colonna in questo punto totalmente a caso però vediamo se dalla distanza c'ha l'aspetto mi spezzo le gambe con quelle scalette lo so vediamo se dalla distanza da molta distanza all'aspetto di una colonna che potrebbe avere un senso allora potrebbe avere un senso messa lì effettivamente messa lì che si collega lì e sorregge solo che secondo me questo dovrebbe essere più basso e quello dovrebbe essere un po più ok devo scavicchiare un po signori mi tocca scavicchiare intanto voglio cioè voglio dire il nostro dove sta l'ho visto prima il nostro affogato e lo lancio se lo vedete ancora vivo lo faccio vedere proprio ok è si può anche notare qua signori attenzione vedi il nostro affogato col fatto che c'ha la torcia in mano lui resterà qua per sempre finché non muore io spero che non muoia perché è carino e gli voglio assolutamente dare un nome non gli serve per per la questione sponde spon però glielo potrei dare un'altra cosa che invece qua vorrei fare e togliere sti questi e sostituirli con della terra non lo so perché ma infatti non è una cosa che faremo adesso mi è venuto in mente così ho pensato che si potrebbe fare allora dicevo vado a zappettare un attimo a zappettare mo a picconare un attimino lassù vediamo che ne viene fuori e non è la cosa più piacevole del mondo zappettare qua su ragazzi c'è abbastanza scomodo uno perché non si vede una pippa come al solito due perché mi devo costruire un sacco dei blocchi lo so che c'ho il bambù cioè in teoria ce l'ho al bambù e potrei farmi le impalcature ma io con quelle impalcature come ho già detto anni fa ho problemi c'è mimici cappotto in una maniera bellissima cioè ci muoiono non so se si può shift a non mi ricordo un cacchio quindi a scanso di equivoci per il momento io desisterei dalla tentazione di usare queste questi strani artefatti incredibili e ci affidiamo a buon vecchio metodo del pillarone dei blocchi con quello che c'hai c'hai in questo caso blocchi di pietra tanto c'ho il piccone della fortuna della vita qua che che è potentissimo e quindi o quello o terra ce ne frega niente ok e io continuo il mio scavaggio noiosissimo purtroppo mi rendo conto che questa cosa è estremamente noiosa specialmente quando scavi in aria è un bordello perché devi sta shiftato altrimenti cadi non arrivi da nessuna parte quindi devi continuare a farti percorsi pillaroni cazzi e mazzi in giro per il mondo non è proprio il massimo del divertimento però voglio di speriamo che il risultato finale sia decente perché praticamente mi serve dare un senso al fatto che io qua ci vado a mettere una colonna cioè se ci mette una colonna che alta due blocchi in primis non è una colonna ma è un cumuletto di blocchi e poi pure esteticamente fa abbastanza cagare non dico che voglio fare la colonna della vita perché altrimenti dovrei scavare tutta la montagna e ovviamente non ho voglia però almeno dagli un aspetto più o meno realistico diciamo così la colonna bella una una colonna bella la faccio al centro del lago è perché l'è altissimo e là c'è una bella colonna dove il ponte ci si intersega secondo me viene viene carino non so ancora bene dove come quando e perché però molto probabilmente lo faremo in questa puntata visto che in questa puntata io devo anche andare a realizzare il il ponte allora andiamo a vedere un attimino la situazione se è migliorata quindi ci allontaniamo sempre di qua e vediamo un po' se abbiamo alzato ad un po più alto c'è ok secondo me già inizia ad avere una parvenza di sì già potrebbe essere realistica la questione che questa colonna sul regga tutta sta roba potrebbe essere realistico magari dovrei sfinare un po quel lato e si potrebbe fare e forse togliere qualche altro blocchetto di la ci provo ci provo secondo me ha senso allora prima andiamo a togliere un altro po di blocchetti di là cioè blocchetti da qua su insomma qua ci facciamo una sorta di gradinata magica non è vero al solito pillarone ho mentito spudoratamente sapendo di mentire allora niente gradinata magica ma pillaroni tutte le parti e siamo contenti andiamo qua e togliamo anche c'erano dei blocchi che volevo togliere erano questi togliamo pure un po di questi ecco non tantissimi giusto nella zona che ci interessa a noi poi però se mi fai spuntare il carbone così succulento porca miseria la tentazione è tanta vabbè il carbone me lo vado a prendere perché mi serve ciò slot liberi più o meno si mettiamo una torcia così ci illuminiamo tutti d'immenso facciamoci una bella piattaforma dove raccogliere il carbone e dovremmo riuscire a raccogliere un bel po di carbone vi ricordo che il mio piccone c'ha fortuna 3 oltre ad efficiency mending e tutto quello che serve quindi il piccone dovrebbe fare il suo sporco lavoro poi sto buco lo chiudo o magari anche no effettivamente c'è un aspetto abbastanza naturale ci metto una torcia per il momento perché poi adesso è troppo prematuro iniziare a pensare all'illuminazione di questa caverna ma è una cosa che più in là dovremmo assolutamente fare perché è vero che vogliamo fa tutto in stile nani con le caverne quello che vi pare però l'illuminazione deve esserci cioè non voglio che il mio mondo appaia buio triste e come si dice e basta non si dice nient'altro ok carbone l'abbiamo raccolto quindi qua possiamo fermarci io non penso che vabbè lascio ancora qua perché magari mi serve ancora questo potremmo decidere di fare un altro giro di waltzer possiamo fare un altro giro di waltzer in questo modo quindi scaviamo un altro po pure qua fin dove arrivo ovviamente sono cascato tipico ecco qua poi qua sfasciamo tutto però per il momento mi serviva un punto d'appoggio un po più alto ma a questo punto sai che c'è scavo pure questo dai con la patata non si scava però ecco qua vediamo pure questo qua ma basta solo questo strato levo e poi mi fermo anche perché solo questo strato vuol dire togli tutta sta roba non è che sia proprio una passeggiatina anche perché finché io continuo a parlare ininterrottamente non posso tagliare i pezzi di video cioè se io parlo e vi sto a raccontare una cosa non è che lo posso tagliare quindi se scavo per mezz'ora e parlo per mezz'ora vuol dire che mezz'ora di video che voi adesso state guardando sarà di scavaggio ve lo vorrei evitare però per fare questo parlare e anche in questo momento sto parlando mentre vi dico che dovrei smettere di parlare quindi è un loop ragazzi cioè siamo andati siamo entrati in lui sono entrati in un loop per cui non riesco a smettere di parlare è uscito anche del ferro quello lo lascio là da quello lascio là ma non ha senso che io metta a scavare il ferro lassù ce l'ho allora diciamoci più qua intanto il nostro affogato vorrebbe darci una mano sta lì sotto bello carino e simpatico guardate l'aeron golem come giro è bello il villaggio visto dall'alto poi raga appena posso mettere sceder perché in questo momento siamo con la versione attenzione la 1.20.5 pre release 4 quindi siamo in zona optifine fondamentalmente perché al momento da quello che ho visto l'optifine è uscita per la 1.20.4 purtroppo non c'è ancora per la 1.20.5 però appena c'è io potrei decidere di fermarmi con gli snapshot e mettere un po di optifine quindi con le scelers non tantissime scelers però già il fatto che il vetro si vede tutto quanto unito no blocchi di merda sarebbe una cosa figa perché fondamentalmente quello che mi interessa giocare con le scelte sparate non mi piace perché non sembra manco minecraft però sfrutta quelle piccole migliorie dell'optifine che ti velocizza che puoi fare lo zoom con il tasto che i blocchi di vetro si vedono tutti uniti e non come se fosse un mosaico per ciecati insomma è una roba bella quelle sono le cose fighe quindi non mi dispiacerebbe usarle queste cose vabbè appena esce la 1.20.5 la metto a meno che non escono altri snapshot prima no dai proviamo proviamo con le con l'optifine allora secondo me mi posso anche fermare con lo scavaggio magari sfrutterò questo giusto perché terra e quindi si fa in un nanosecondo ok non pensavo ci fosse tutta questa terra e probabilmente non è stata una buona scelta fare quello che ho appena fatto metterò delle torce per cercare di porre rimedio al danno facciamo così tutto molto molto casuale ok qua non dovrei più scavare con la pala però una bottarella bottarella e via come si dice ok signori rompiamo tutta sta roba che abbiamo fatto senza cascare giù possibilmente e adesso andiamo a vedere com'è venuto qua pure sfascio tutto andiamo a rompere pure qua che abbiamo fatto la pedana raccogli carbone che non ci serve più a nulla credibile come io non sia ancora morto facendo questa roba ok raccogliamo un po di materiali ma raccogliamo i materiali che ci servono per la nostra merda le frecce le posso anche buttare voglio diciamo a farmi di scheletri non è che mi mette l'emosina le frecce raccolte strada facendo i fiorellini manco ci servono intanto io continuo a parlare porca zozza qualcuno mi fermi ok andiamo a vedere com'è venuto va bene ha senso adesso ha molto senso magari questa colonna la sposto più avanti sì devo dormire e iniziamo a fare la colonna allora abbiamo dormito quindi decidiamo dove fare la colonna ma prima di decidere fare la colonna io devo smussare un po questa questo lato quindi per smussare un po questo lato io devo fare qualcosa di questo tipo quindi scavare di nuovo e lo so ci tocca non ci posso fare niente poi scaverei un attimo qua devo cercare di dargli un aspetto naturale e contemporaneamente smussarlo un po tanto metterò delle torce altrimenti come al solito non si vede nulla o peggio ancora si vede ma si vede spixelatissimo non lo so perché l'algoritmo di youtube fa così cagare ogni tanto però quando il video è buio si vede proprio una merda allora controlliamo se così potrebbe già bastare non lo so non penso vediamo e voilà no devo partire più dal basso ma dobbiamo partire da qua questo è a livello e va bene io farei così sto punto però di non beccare nulla ma in teoria qua sotto non ci sta nulla che mi interessi quindi sfasciamo tutto questo lato in questo modo questo lato lo lasciamo di uno quindi andiamo a salire tipo effetto scaletta facciamo la stessa cosa pure qua e facciamo così fino su magari prima di arrivare fino su mi allontano un attimo e guardo perché può darsi che viene troppo uno schifo se non allora allontaniamoci un attimo vediamo che effetto fa anche poi adesso mi sono ricordato io la devo farmi la il posto dove dormire la mia stanza stile hobbit che mi ero completamente scordato allora non è male però io qua adesso farei solo di due cioè lascerei due blocchi e non uno tipo scaverei solo questo e nemmeno tutto del tutto così vediamo un attimino com'è ok c'ha già più senso sembra già più naturale adesso la torre dove la facciamo andiamo a vedere andiamo a vedere subito perché la torre è importante signori allora la torre dovrebbe collegare qua è un po un casino capire dove farla però perché non ho il punto di vista giusto dovrei vedere da lontano e poi riavvicinarmi va bene c'è solamente un punto dove andare lassù come al solito perché sto scendendo di qua ok ci sono creeper in giro no perfetto allora da qui si vede bene non si vede esattamente quello che volevo vedere io però secondo me più avanti potrebbe avere senso cioè farla più o meno qua magari anche che che parte da qua sotto un po devo ritornare giù eh lo so ragazzi ma bisogna vederle bene queste cose poi una volta che la costruisci e fai la smonti allora io direi di provare la costruzione direttamente cioè senza troppi fronzoli ci buttiamo alla costruzione vediamo quello che succede intanto togliamoci un po di di pietrisco il carrello dovrebbe essere pieno infatti avviamo pure il cart qua carbone come siamo messi è una merda ma non è un problema il carbone l'ho preso ma è scordato aspetta 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 butta questo qua facciamo scendere un po di carbone e avviamo è uno dovrebbero accendersi tutte perfetto allora stavo dicendo prendiamoci un po di questi blocchi con il nostro stone cutter potentissimo li trasformiamo in stone stone brick ciao in stone brick e poi stone brick li trasformiamo anche in wall allora quindi abbiamo detto lo facciamo più o meno là un po più avanti vediamo che cosa ne viene fuori quindi arrivo fino sopra così possiamo vedere da lontano com'è qua lo togliamo sicuramente allora la potremmo fare signori secondo me qua qua secondo me ci avrebbe senso secondo me sì qua ho un po più qua un po più qua la faccio partire da qua 1 2 3 e va bene 4 ma solo che quando ci andava questo abbiamo iniziato già sbagliati vedi qua ci vanno direttamente questi ho fatemi prendere i blocchi che mi sono perfetto andiamo su che questo è un lato della della colonna ok mettiamoci pure questi e quindi iniziamo a fare così questo qua lo togliamo perché è a vista 1 2 3 4 per il momento la faccio piena poi vediamo il da farsi 2 3 questo qua 1 2 3 e qua sotto questo qua così e poi qua tutto stone brick ok adesso la faccio che arrivo fino su vediamo come viene speriamo che ce l'ho i blocchi per arriva fino su ecco così già non va bene facciamo così 2 3 ok mettiamo un po di torce per il momento altrimenti è un casino mi sto rendendo conto che ce ne vorranno un bel po di stone brick per fare quello che devo fare allora intanto dove sono arrivato sono arrivato un po quasi sopra più o meno sì più o meno sì dai quindi diciamo che questo andrà qua non la finisco completamente tanto per vedere che effetto fa qua però ci ti voglio mettere sti cosi 4 è quello a vista quindi se vede in cacchio a vista per modo di dire questo è a vista dicevo quindi facciamo così ok chiudiamo pure questo lato così lo iniziamo a vedere come viene ce la faccio a chiuderlo secondo voi ma manco se me pagano guarda manco se me pagano questo lo dovrei togliere anche questo è anche quello è probabilmente qualche altro blocco infatti pure quelli dovrei togliere vabbè mettiamo una torcia per il momento poi andiamo a fare tutti i settaggi del caso ho finito i blocchi usiamo questi qua momentaneamente e qua ci mettiamo questi allora non l'ho fatta completamente ora mi farò malissimo però l'idea dovrebbe dovrebbe esserci continuo a farmi malissimo non so perché ho problemi allora guardiamo da lontano che effetto fa di notte allora secondo me non è sbagliata come cosa non è per niente sbagliata come cosa magari li mettere dei blocchi che ok sì perché modo che doveva continuare secondo me il posto è quasi perfetto dormiamo un attimo facciamo altri blocchi andiamo a sistemare tutto mettiamo pure altra cobblestone a cuocere forse sto esagerando con la cobblestone da cuocere non è vero perché ce ne servirà un botto cioè questo sarà tutto costo un brick quindi non è mai troppo ma io qua c'ho c'ho dei stomi che già fatti ma perché non mi prendo magari potrei usare pure gli slab per risparmiare questa è stone che già ce l'ho fatta gli scalini potrebbero servirmi non so cioè sicuramente mi serviranno più avanti ok mi sono preso tutto più o meno perfetto facciamoci un altro po di stone brick signori potrei togliermi la roba inutile dall'inventario effettivamente ok facciamo ancora altri stone brick quindi ci prendiamo altra pirra liscia tanto ce ne abbiamo quanta ne vogliamo poi ovviamente farò anche quelli rotti cracker stone brick mi piacciono un casino però per il momento la iniziamo a far così poi i dettagli li aggiungiamo in un secondo momento qua mi servono poi pure dei dei wall assolutamente un bel po di wall anche ok potrei farcela con questi blocchi faccio altri stone brick in teoria adesso dovrei essere in grado di finire questa colonna barra torre barra qualcosa allora vediamo gli errori sono che le le zone a vista tipo queste devono essere fatte a mo di colonna che la colonna è incastonata in un modo incredibile facciamo così così non mi rincoglionisco dov'è il mio piccone no no vabbè facciamo così dai ecco dicevo così la colonna è incastonata nella pietra della montagna e c'ha senso così proprio come se fosse stata costruita dentro la montagna che alla fine è la verità qua va bene così qua va bene così scusatemi tanto qua comunque ciò devo mettere ok guardiamo un attimo questo lato fino su come come va ecco lassù devo fare cose quindi ora io costruirò pillarone di stone brick faccio prima e vediamo che cosa possiamo fare allora questo e questo e questo vanno tolti qua ci va assolutamente così e poi qua dobbiamo fare il continuo ci arrivo non ci arrivo manco se mi pagano porca zozza dicevo il continuo di sto muretto ok adesso la nostra colonna arriva fino sopra scendo e faccio pure gli altri due lati che abbiamo lasciato in sospeso eccoci qua saliamo qua su belli tranquilli poi devo vedere pure quell'altro lato come fare qua comunque ci mettiamo delle torce perché poi per il momento internamente cava poi sicuramente ci facciamo qualcosa io già so cosa facci in verità però ve lo dico dopo andiamo pure dall'altro lato è questo lato importante perché quello che si vede praticamente questo è proprio il lato fondamentale allora questo lato qua tipo qua io posso fare una cosa del genere e fare così sicuramente qua altrettanto sicuramente va fatto così e soprattutto purtroppo queste abbastanza pallosa come cosa c'ho tutto questo lato che ha vista quindi in teoria io dovrei far proseguire la mia colonna fino su con i wall non so se sia il caso secondo me converrebbe fare qualcosa di questo tipo cioè per far vedere che comunque la parete della montagna continua a un certo punto si ferma cioè il resto della colonna è costruito all'interno della montagna solo che non si vede potrebbe avere un senso fare questo però questo pezzettino qua che ha vista lo faccio così e qua ci mettiamo una torcia momentaneamente allora in teoria mi dovrebbe mancare solamente il lato quello dietro ora andiamo a finire e vediamo che effetto fa io dico che è carino pigliamoci tutti i blocchi che ci servono ce ne serviranno tanti ma proprio tanti proprio fortuna la goblet non è mai un problema ecco qua su non la torcia non mi posso adampicare sulle torce allora qui va bene così perfetto allora signori andiamo a vedere adesso che effetto fa che secondo me adesso già è molto più caruccia la situazione è giorno quindi va bene è sì c'ha senso mo c'ha molto senso c'è ha proprio l'idea di una colonna che sta sorreggendo tutta la struttura magari la ci potrei mettere dei gradini non lo so quello lo decideremo dopo asse a molto senso tutto ciò va bene mi piace ora dobbiamo pensare a due cose al ponte da fare qui sì comunque l'itali tolgo e cosi che cioè se vedono solo loro vedi sti blocchi di come sia i log di legno meglio sostituirli o con il vetro che potrebbe avere molto senso anzi secondo me ha tantissimo senso ma lo faccio subito un attimo al vuoto raga è lo so non ha bisogno a beccare le cose al volo allora io il vetro l'ho spostato qua se non mi ricordo male sì però ne devo fare 64 non mi ricordo quanti ne sono mi serve altro colorante blu lo affido tutto il colorante blu ma dai ma vero ma sì che cazzo non importa ne facciamo dell'altro me ne basterà 20 penso che mi bastano e stra bastano spero allora andiamo qua facciamo il nostro vetro così sì infatti mi bastavano però ho sbagliato colore ma porco lo schifo questo è blu a me serve l'altro colore giusto è sbagliato vabbè ci abbiamo del vetro blu che prima o poi in un modo o nell'altro saremo per fortuna che di vetro non ne ho poco altrimenti era un bel casino allora riprendiamoci questo riprendiamoci pure questo rifacciamoci un po di colorante bianco 17 mi dovrebbero bastare tranquillamente andiamoci a prendere i nuovi la vislazio di ragazzi perché è che mi sono fumati altri ok riposiamo i lapis quassù e mo uniamo sti così questo mi serve a me il light blu dai no il blu normale vabbè vabbè capita allora dicevo rifacciamoci i nostri vetrini magici o adesso è tutto molto senso posiamo il colorante qui dentro lascia ce l'abbiamo vado un attimo a sfasciare con la roba e torno intanto il nostro amico affogato ci sarà molto d'aiuto in questa impresa romperà le palle da morire questo tipo lo dico io infatti parto da quest'altro lato così almeno non mi rompe le balle e però aspetta poi come viene il villaggio viene uno schifo però se faccio così da sotto non so mica no e dai ci dobbiamo pensare bene questa cosa perché si estremamente viene carino però poi da sotto al villaggio come viene costa e se gli levo sti cosi merlettati qua non lo so lo faremo in un secondo momento intanto non è stato tempo perso perché comunque abbiamo fatto il vetro e ce l'andiamo a mettere a posto allora dicevamo dobbiamo fare il ponte che collega qui e poi secondo me ci starebbe bene un'altra torre un'altra colonna che sorregge ora adesso questa è la parte interessante vediamo un attimo l'altezza dovrebbe essere quella perché che cosa voglio fare queste colonne io le ho studiate in questo modo appunto per avere questo spazio qua libero questo spazio qui libero serve perché se io poi voglio fare voglio collegare le varie colonne tra di loro lo posso fare quindi mi faccio dei percorsi per il momento è solamente di prova questo sta serie di slab perché poi faremo dei punti fatti meglio però vediamo come potrebbe venire allora facciamo una roba di questo tipo a che altezza siamo siamo qua devo cercare di becca il centro del lago è più o meno quella zona lì perché qua faremo la colonna portante che sorregge tutta questa arcata della della caverna quindi sarà una colonna che arriva fino dentro il lago sperando di beccare più o meno il centro del lago noi ci proviamo e qua in teoria ci dovrebbe essere un'altra colonna all'interno proprio del della parete che sorregge quest'altra cosa qua intanto mettiamo subito delle torce perché qua mi mi potrebbe esponare la qualsiasi allora più o meno dovrebbe essere qua ok quindi ora io prendendo questi blocchi potrei decidere bene o male siamo anche più o meno al centro del lago ok al centro del lago lo calcolo facile perché uno due tre quattro cinque dovrebbe essere questi bene o male più o meno ci siamo è più o meno ci siamo quindi io farei così allora la colonna è un 5 per 5 questo è 5 se tanto mi da tanto della poi la devo mettere quegli altri cosi per quegli altri cosi intendo i muretti questo è quello lo mandiamo un attimo a sperdersi non è un problema quindi se tanto mi da tanto io dovrei fare una roba di questo tipo ok poi i blocchi superflui li rompiamo diciamo questa dovrebbe essere la colonna che arriva qua moda qua dobbiamo arrivare fino giù e poi fino su intanto facciamo subito una prova facendo un pillarone di un blocco al centro vediamo dove finiamo anzi faccio proprio un pillarone così allora signori ci vogliono un bel po di blocchi per fortuna qua ci abbiamo il lago quindi ci possiamo buttare ci vogliono un bel po di blocchi però qui ci verrà una colonna che sorregge tutta questa struttura vediamo se potrebbe andare bene non è che c'è chi per dietro no allora secondo me potrebbe andare molto bene la colonna qui ok facciamo questa colonna è una parola è una parola non c'è un po consumato uno stack solamente per fa quel lato c'è un pezzo di quel lato quindi sì dovrò fare un bel po di roba perché le mie fornaci sono spente che gli è successo hanno finito tutto facciamo ripartire signori facciamo ripartire non è che possiamo stare qua a guardare le fornaci che si spengono ok ragazzi vediamo che cosa riusciamo a fare con questo però vorrei andare a dormire perché mi evito sai la notte creeper succede di tutto solo che muo è una rottura di balle perché c'è l'affogato cioè il mio amico affogato che mi è tanto simpatico adesso mi romperà le palle appunto tantissimo quindi per un po ce lo dobbiamo sopportare l'amico fritz qua ci arrivo dimmi che ci arrivo ok ci sto arrivato va benissimo così va bene a me mi interessa fare una cosa del genere mi basta avere un attimo questa struttura poi il resto è tutto fattibile qua ci va questo e voilà facciamo questa prova e vediamo come viene signori poi la facciamo proseguire fino al vetro se ci abbiamo voglia anche se secondo me avrebbe senso ok i primi blocchi sono un po lenti da piazzare purtroppo ma una volta piazzati poi si ballisci adesso qua io salgo fino su e poi mi butti in acqua e via sì ok dicevo salgo fino su e poi mi butti in acqua è però aspetta c'è un problema perché giustamente io non posso piazzare i le mura saltandoci su vedi ma no me le fa piazza ok niente ho detto una stronzata come non detto ok continuo ok questo abbiamo fatto e adesso risaliamo di nuovo qua e andiamo con i muretti signori ovviamente quelli che ho messo mo li devo rompere altrimenti non riesco a costruire che questo secondo me è il metodo più rapido ok siamo arrivati più o meno in cima problema è che mo questi come cacchio ci metto qua è da qua non ci posso metterli dovrò ammettere quando arrivo qua va bene va bene magari ne metto giusto uno mentre casco ce la faccio ce l'ho fatta e andiamo con quest'altro ok questo l'ho chiuso è molto bene acqua è buttare secondo voi morirò no non manco io come però ce l'ho fatta a a sto punto sto pensando ne posso piazzare anche due cioè fare così avrebbe più senso decisamente a sto punto avrebbe più senso pure metti il muretto ok forse così è più bello ti togli dalle balle maledetto bistrello allora ragazzi ho finito tutti tutti i stone brick praticamente ci manca tutta la parte dietro di sta cosa vi faccio vedere che qua è ancora è ancora aperta però secondo me l'effetto non è male anzi anzi mi piace adesso vado a dormire così lo vediamo con di giorno poi queste colonne saranno illuminate ci metterò le torce le lanterne qualcosa ci mettiamo però vediamo come viene di giorno ok secondo me ha senso come cosa ha senso è anche realistico che la colonna sia lì perché sorregge quel punto magari poi quel punto lo aggiustiamo un po' e secondo me ci sta benissimo il ponte lo possiamo fare da qui che parte ova raso raso l'acqua e si collega lì sotto oppure un ponte che sale si collega quassù chiaramente i ponti poi tra una colonna e l'altra non saranno questi queste solamente per era solo per prendere le misure voglio vedere dall'alto come viene dove cazzo la salgo io qua allora sicuramente sta cambiando faccia questa base diciamoci la verità carina mi piace mi piace ok devo fare solamente una marea di altri blocchi finire sta colonna e poi fare un ponticello va bene il ponticello chissà come lo faccio il legno non lo so non lo so stavo riandando su per sbaglio signori qua oppure finito il carbone cioè rendiamoci conto va bene intanto la nostra farm di ferro e la misera sta farm di ferro raga è favolosa è proprio una bestia ok ce la potremmo fare con questi blocchi io spero di sì ma non ho fatto il calcolo di quanto è alto però è abbastanza alta la situazione ok andiamo a terminare questa costruzione ecco che da qua posso pure chiudere gli spazi che mi hanno lasciato aperti qua dentro ok siamo abbastanza in alto e ho quasi finito vedete questi tutti i spazi che avevo lasciato perché giustamente non riuscivo a mettere il resto dei blocchi questo è uno slab ho usato persino i slab perché ho finito tutto anche questo è uno slab infatti ok allora in teoria questa colonna dovrebbe essere finita poi che qua dentro ci sia il buio per il momento non ce ne frega niente ecco non c'è solamente un piccolo problema io per finirla dovrò entrare dentro per forza perché questa dovrebbe fare così è così e questo dovrebbe andare fino su ci avrebbe un senso in teoria questo dovrebbe continuare finché è a vista cioè lassù lo so che qua dietro nessuno vedrà mai nulla però se una cosa la devi fa falla bene giusto ora il problema è che io non la posso finita qua perché come faccio a finirla qua va bene così qua va bene così ne servono altri blocchi mettiamone due qua qua ne posso mettere massimo un altro e poi quando li porta aspetta faccio così su scemo ecco fatto ora mi allontano per cascata in acqua possibilmente e signori la prima c'è la prima questa colonna super mega portante è finita vediamo l'effetto completo ma avrei potuto far vedere l'effetto completo pure prima però non ho esistito e quindi ve l'ho fatta vedere a metà però va bene olla vedi quant'è figa si arrampica fino lassù molto bella molto gnocca poi i sistemi di ponti che collegheranno le varie colonne saranno qualcosa possiamo pure fare una scala interna saranno qualcosa di questo tipo ovviamente fatti meglio poi devo decidere se fargli il legno come cavolo se non lo so in che materiale farli però ci sarà tutto un sistema che collegherà le le varie colonne qui posso pure fare così e ci sta ma è la questione ponticello però non so come faccia sinceramente la questione ponticello mi lascia un po perplesso perché non so in che stile fare quel ponte sono molto molto sincero secondo me la questione ponticello che poi si dovrà richiamare anche i ponti che collegheranno colonne con colonne quindi possiamo decidere di fare tutto in in stone brick lasciare questo stile però secondo me diventerebbe un po troppo pesante quindi farei qualcosa che alterna lo stone brick con il legno solo che non c'ho ancora in mente un progetto preciso sinceramente non ce l'ho quindi a sto punto io metterei rapidamente in pausa questo magari mi scrivete pure voi nei commenti mi date qualche idea però scrivete di presto i commenti che poi devo registrare se non casino volevo cercare del carbone molto velocemente per far ripartire le mie fornaci allora da qualche parte sulla sinistra dovrebbe esserci quella che una volta era l'entrata ecco questa è l'entrata della farm di ferro non so se vi ricordate suppongo di si qua abbiamo iniziato a scavare la farm di ferro il carbone a me servirebbe tantissimo quindi io andrei un attimo molto velocemente a cercare del carbone così faccio ripartire le fornaci o vedi la già c'è del carbone a vista che schifo non ci fa ovviamente scomodissimo lassù troppo su molto su vabbè cerchiamo di prenderlo in qualche modo qua c'è del ferro giustamente c'è tutto mossa spunto il ferro allora qua posso rimettere la mia configurazione standard che è questa dove cazzo allora sta il carbone ok prendiamoci sto carbone vediamo quanto ce n'è spero tanto allora a me un paio di stack di carbone non mi farebbero schifo tre sarebbe pure meglio visto la quantità in mani di cobblestone che io devo cuocere vabbè intanto prendiamoci questi che vedevo di quanto ne abbiamo preso 40 blocchi non male il ferro lo lascio là ragazzi non mi dite niente ma ce l'ho qualcuno di me si ricorda perché io avevo scavato sta cosa io assolutamente no qua sotto si potrebbe morire probabilmente sì che cavolo c'era qua sotto non mi ricordo minimamente perché ho fatto questi scavi strani ho sentito il rumore terrificante ve lo giuro a ok quasi va alla farm di scheletri vabbè era la strada iniziale che avevo trovato infatti sento anche i mob qua sotto invece che cosa ci sta di bello sempre la farm di scheletri perché sento sempre i mob però intanto illuminiamo così aumentiamo chi cavolo porca zuzza che cazzo è successo qua così all'improvviso tu rimani un attimo davanti che mi facevi ragazzi avete rotto le palle tutti ve lo volevo di amico io c'ho una farm di scheletri celli secco a colazione gli scheletri non è poi su sta qua con te tanto mangiamo perché altrimenti qua ci si muore male dicevo illuminiamo tutto così aumentiamo pure lo sport rate degli scheletri nella farm questa è la farma chiaramente questa è tutta roba che poi andrà sistemata fixata questo è il villaggio signori qua siamo fuori il villaggio quindi se rompi una roba del genere sta direttamente nel villaggio che è carina come cosa è molto c'è non il fatto della rompi però è carina come cosa illuminiamo pure queste zone e mi sono andata in picca sotto al villaggio signori non era il posto dove volevo andare io volevo cerca un po di carbone anche abbastanza velocemente per quanto possibile qualche cosa c'è il nulla più assoluto ok torniamo su torniamo su con la cobblestone non c'ho voglia di di trovare la strada siamo tornati su però carbone non ne ho trovato quindi facciamo quest'altra strada o vedi che qua c'è del carbone stava pure a vista io sono cercatissimo non l'ho visto questo ce lo ciucciamo tutto ma proprio senza problemi ce n'è dell'altro no perfetto che poi se non mi ricordo male questo era guarda quanto carbone la questo era proprio il pezzo di montagna che io volevo buttare giù per fare tutta una zona open space con l'altra parte dovrebbe essere più o meno così ho finito le lanterne ho finito le torce che non è una cosa buona quindi sono costretto a farmi delle torce porco lo schifo mettiamo una torcia qua andiamoci a prendere con l'altro carbone lì sotto assolutamente porca zozza perché faccio queste cose quando lo sanno tutti che i miei salti finiscono sempre molto molto male questo carbone pure ce lo siamo preso qua stanno zombie con tanto di armatura pale cosa cazzo altro ok visto dell'altro dell'altro coso come si chiama dell'altro carbone andiamo a prendere istantaneamente signori istantaneamente fatto per la pure roba non ce ne frega niente a noi abbiamo dell'altro carbone in zona per caso cosa c'è qua sotto qua dietro dentro non c'è niente qua che cosa c'è del ferro non mi interessa e qua siamo sempre lateralmente al villaggio tanto il mio mouse come al solito si setta la velocità per i cazzi suoi a me mi girano le palle a manetta ma manetta sul serio non per scherzo vabbè prendiamoci sto carbone che sta quassù qua c'è una fonte d'acqua e lo lascerei anche la così com'è ok signori diamo una torcia sempre per farvi vedere tutto altrimenti non vedete un cacchio perché non si vede niente quello l'ho perso perso per sempre questo l'ho preso va bene quanto abbiamo due stacca la vedo del carbone però attenzione non è che posso lasciare il carbone così qua carbone non ne vedo intanto qualcuno appena morto affogato vediamo se per caso qua c'è del carbone a vista a interiore questa parete poi la voglio buttare giù tutta per fare quel famoso open space qua il carbone a vista io non ne vedo almeno così a primo acchitto qui c'è della cobblestone c'è della gravel che potrebbe essere potenzialmente molto mortale cosa c'è qua dietro cose interessanti assolutamente un cacchio c'è qua dietro solo un fottio di di gramma proprio tanta guarda ma guarda ma ti pare normale avere tutta sta grave in giro dai finita non nascondeva manco un po di carbone niente era inutile allora qua sotto c'è un sacco di bella roba eh però chi cacchio ci va vediamo se riusciamo a fare un salto della fede hopla con tanto di torcia posizionata ultima torcia di nuovo e che palle beh qua sotto di torcia ne ho messe una marea cioè non so se riuscite a vedere bene ragazzi ma qua è enorme questo questo posto è giganterrimo c'è proprio gigantesco bellissimo vabbè accontentiamoci del carbone che abbiamo trovato dai non so tre stack su due stack e qualche schifo meglio di niente vediamo di trovare un posto per salire spero che non mi non trovo l'acqua del mio villaggio togliendo sta roba no va bene eccoci qua signori qua c'è del carbone no va bene guarda guarda le quanto sono carini questi nel villaggio ma c'ho tre ero un golem erano tre pure prima ma no mi sa che erano due perché ottene questi stanno figliando come dei ricci maniaci porco lo schifo sono c'è c'ho tre ero un golem io mi ricordavo due magari mi ricordo male però se mi è esponato anche il terzo ero un golem questo mi fa pensare che i ragazzi si stiano continuando a riprodurre ora proprio per curiosità buttiamo sto carbone qua dentro tutto tutto proprio aspettiamo un attimo che scenda così avvio la produzione quadre della pietra della stone ok avviato andiamo un attimo a vedere che cosa sta succedendo nel nostro villaggio per curiosità proprio ma a me questa cosa mi puzza questa cosa mi puzza tantissimo allora questi stanno dormendo e ne sono 23 in teoria dovrei trovare dei villager senza letto 45 attenzione forse mi sono sbagliato 6 e 7 questi stanno facendo cose zozze 89 e qua c'è il decimo e non mi ricordavo che fossero dieci abbiamo dieci villager in totale c'è una bella cifretta voglio di per essere un villaggio sotto un lago costruito artificialmente 10 villager che si sono riprodotti da soli non è per niente male a me avete consigliato di togliere questo bar l'altrimenti questi continuano a prendersi lavoro non è una brutta idea non è per niente una brutta idea dovrei togliere dei bar pure qua dentro poi vabbè che qua ce n'è solamente uno e c'ha senso c'ho qualcosa che mi potrebbe servire qui per sostituire momentaneamente quel barrel si posso usare questo posso sicuramente usare questo e mi ero dimenticato qua sotto comunque c'è un botto di roba momentaneamente questo bar lo sostituiamo con questo blocco qua che non è nemmeno male non è il nostro amico affogato sta lì siamo tutti quanti contenti comunque ragazzuoli io mi fermo qua per questo video spero che la costruzione delle torri assassine vi sia piaciuta datemi dei consigli su come fare i ponti mi raccomando niente cos'altro raccontarvi quello che devo dire ho detto abbiamo parlato quindi niente vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi ciao